ave maria ragazzi e ragazze carissimi e mi scuso che c'è stato qualche piccolo problema di connessione precedentemente spero che adesso tutto funzioni bene e possiate anche sentire me bene stavo accennando prima che hai me cadesse la linea che continuiamo oggi il discorso sul sesto comandamento in particolare sui peccati che minano alla radice e la santità del matrimonio e come avevo preannunciato nella puntata precedente volevo oggi ahimè anche se sono un pochino datate queste 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 stime perché si riferiscono a qualche tempo fa comunque danno una serie diciamo di numeri abbastanza preoccupanti e inquietanti relativi alla crisi dei matrimoni dovuti non soltanto ai divorzi ma anche a un'altra grande piaga che sta drammaticamente dilagando che sono le unioni civili le libere convivenze le convivenze al di fuori del del matrimonio che creano similmente non poche difficoltà e non pochi problemi e non pochi danni sia all'istituto del matrimonio che alla stabilità della famiglia scusate le mie ancora non perfette condizioni fisiche allora io qualche tempo fa studiando questo argomento ho fatto un'indagine quindi sono andato a speculare qua e là in giro in riviste specializzate o in rete per rendermi a conto anche come sacerdote del grado di preoccupazione che bisogna avere dinanzi alla crisi matrimoniale io vi leggo alcuni numeri che potete tranquillamente andare a riscontrare e tenete presente che questi numeri ancora non sono aggiornati alla luce del censimento del 2011 che ahimè presumibilmente avrà segnato un ulteriore peggioramento rispetto alle cifre già allarmanti che sto per dirvi allora numero uno percentuale dei matrimoni religiosi e percentuale dei matrimoni civili nel 2009 sono stati celebrati 144.384 matrimoni religiosi e 86.475 civili vuol dire che più di un matrimonio su tre tra quelli celebrati più di un matrimonio su tre non proprio uno su due perché le cifre sono ancora lontani ma più di uno su tre sono stati celebrati soltanto al comune sono tanti non sono pochi poi nel 2008 lo stesso furono celebrati 156.000 circa matrimoni religiosi e circa 90.000 civili quindi la cifra è attendibile perché è confermata da un paio di anni di rilevazioni quindi si tratta di un tasso tendenziale quindi un matrimonio su tre diamo questa cifra arrotondata per difetto viene celebrato davanti al sindaco e non davanti al ministro di Dio stiamo parlando di dati italiani chiaramente quindi per ora viviamo in Italia e siamo preoccupati della nostra bella Italia in alcune regioni specialmente non me ne vogliono gli ascoltatori che ci sentono via internet da quelle parti d'Italia quindi in diverse regioni del nord Italia nel 2009 i matrimoni civili hanno superato quelli religiosi si tratta del Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna e Liguria mentre nel centro pur prevalendo ancora i matrimoni religiosi le cifre sono abbastanza vicine siamo quasi pari 24.000 circa religiosi contro 19.000 circa civili quindi vuol dire che siamo quasi... è grazie al sud d'Italia che la percentuale si mantiene ancora alta questo dobbiamo subito dirlo in linea con il dato generale in base al quale la fede e la vita di fede continuano a sopravvivere discretamente più al sud Italia che al nord ora attenzione che in base a quanto si è potuto verificare le libere convivenze nel 2007 si attestavano ad una percentuale di circa il 12,5% ma se si fa attenzione il numero dei matrimoni è in netto calo il che significa che le libere convivenze sono parimenti in aumento tendenziali adesso non vorrei dire sciocchezze perché non ho dati freschi però se nel 2007 la cifra era il 12,5% io non mi stupirei affatto se fossimo arrivati al circa il 20% anche perché almeno dalle nostre parti qui di convivenze se ne sentono abizzeffe e i matrimoni continuano ad essere in calo, in calo, in calo e la convivenza, la libera convivenza, la cosiddetta unione civile sta diventando assolutamente un fatto considerato normale ora, fatto che il normale non è affatto ecco, perdonatemi il gioco di parole fatto che il normale non è affatto né il fatto che sia ampiamente diffuso a livello sociale consente una sua tolleranza da un punto di vista religioso la libera convivenza è un fatto gravissimo davanti a Dio per diversi ordini di motivi il primo rappresentando un vero e proprio pubblico scandalo scandalo vuol dire, non so, forse è meglio che ripassiamo la differenza tra peccato e scandalo il peccato è un'offesa a Dio fatta trasgredendo la sua legge ma fatta in privato cioè se io quando sto in camera mia mi prendo uno staccato di rabbia e quando sto da solo bestemmio ho fatto un peccato gravissimo ho fatto un peccato mortale ma di quel peccato sono a conoscenza io il padre eterno che mi ha sentito il mio angelo custode e basta se sono da solo in casa ecco, se io bestemmio davanti a mio figlio piccolo quel peccato diventa un pubblico scandalo perché il mio figlio sente questa cosa qui e se vedere il padre o sentire il padre bestemmiare rappresenta un pessimo esempio diseducativo quindi lo scandalo non è altro che un peccato commesso in pubblico senza nessuna remora la convivenza appartiene a questo genere perché mentre, come approfondiremo nei prossimi incontri è sempre peccato mortale unirsi sessualmente come marito e moglie prima del matrimonio quando lo si fa all'interno di una libera convivenza questo lo si fa sotto gli occhi di tutti perché nessuno è così ingenuo o sciocco da pensare che un ragazzo o una ragazza che vanno a vivere insieme lo fanno perché la sera prima di andare a dormire vogliono fare la veglia di preghiera e dire insieme il santo rosario speriamo, speriamo nessuno lo mette in dubbio ecco, però ci vorrebbe un po' troppa come dire ingenuità per pensare come prima come dire opportunità una ipotesi un'eventualità del genere quindi di fatto viene pubblicamente ostentato il peccato perché non fornicare l'abbiamo già visto nella rassegna biblica è tuttora oggi un peccato gravissimo mi sembra non so se l'ho detto poi comunque lo riprenderemo io l'ho letta con gli occhi miei queste cose basta semplicemente andarsi a informare e prendere i testi adatti è che nel primo millennio se tu avevi una fornicazione semplice prematrimoniale una non centomila ti beccavi come penitenza sette anni di digiuno a pane e acqua l'ho letta con gli occhi miei questa cosa quando studiavo il sacramento della penitenza e la storia del sacramento della penitenza non è che oggi le cose sono cambiate affatto il sesto comandamento è rimasto sempre lo stesso quindi praticamente con la convivenza si fanno guardate tre peccati gravi uno è un oltraggio al sacramento del matrimonio in quanto si comincia a vivere come marito e moglie senza la benedizione di Dio e questo lo si fa anche nel caso del matrimonio in comune secondo si commette un pubblico scandalo perché ci si unisce come dire come marito e moglie sotto gli occhi di tutti quindi dando a questo il crisma della visibilità e questo vale anche per i matrimoni al comune terza cosa che è nella convivenza ma non è nel matrimonio al comune si compie un gesto fortemente irresponsabile perché la motivazione per cui molte persone scelgono di andare a convivere è di fare la prova devo vedere se le cose vanno e poi eventualmente ci sposiamo questo con gravissime conseguenze nei confronti primo dei figli perché se nasce qualche figlio di una convivenza tuttora oggi nella legge non viene presunto che sia figlio anche del padre ma il padre deve riconoscerlo e se il padre non lo riconosce sono soltanto una serie di problemi grossi oltre come dire ad un'estrema labilità io sentivo una volta una storia allucinante di una persona insomma che aveva inguagliato una giovanotta capite in che senso l'aveva inguagliata e dinanzi a qualcuno che osava dirgli dico ma scusa ma lo capisci che questa è una giovanotta una ragazzina che hai fatto qua e poi che futuro ci avete dice ma guardi che non ci sono problemi ma questa è una cosa che è già successa è già successa con altre giovanotte ho un paio di figli sparsi in giro per l'Italia ma io a ciascuno di questi mando 200 euro al mese e con questo erano risolti i problemi secondo perdonatemi l'ironia questo grande scienziato che a quanto so ha detto questa cosa quindi un'estrema irresponsabilità perché è un legame completamente labile che può essere interrotto in qualunque momento senza nessuna possibilità di difesa se ci sta un matrimonio se il marito si impazzisce e trova una signorina più giovane della moglie e si simbaghisce e gli vengono le idee strane ammesso e non concesso che le assecondi quantomeno deve dare mantenimento alla moglie che non si muore di fame quantomeno se la casa è intestata al marito e la moglie starebbe per strada è tutto da dimostrare che il marito si tiene la casa eccetera eccetera ci sono anche queste cose terra terra da un punto di vista legale è che almeno nel matrimonio civile ci sono almeno queste ci sono nella congliazza non c'è neanche questa quindi pensate è triplicemente grave una cosa di questo genere e oggi fanno proprio ridere perdonatemi di nuovo l'ironia quelli che vogliono la disciplina giuridica delle unioni civili la disciplina giuridica delle unioni civili specialmente eterosessuali è per definizione una contraddizione in termini perché se tu vai a convivere è proprio perché non vuoi nessun tipo di disciplina giuridica perché se non ci credi diventa sposare al comune d'accordo delle altre non abbiamo parlato nella puntata precedente non voglio riprendere questo argomento perché non mi va di inquietarmi interiormente quando parlo di alcune cose quindi la procedura canonica tuttavia di regolarizzazione di un'eventuale situazione regolare di questo genere è più severa nel caso di matrimonio al comune che non nel caso della libera convivenza per un motivo ecco perché senza dubbio il matrimonio al comune è una scelta che è meno irresponsabile però è anche una scelta formalmente più impegnativa cioè io ho proprio volontariamente deciso di dare una configurazione giuridica stabile al mio matrimonio al di fuori del sacramento quando per ogni battezzato noi sappiamo non esiste altra forma di non con la moglie che non il sacramento del matrimonio questo per un motivo molto semplice che se il nostro signore lo ha istituito ci sono dei motivi molto gravi il nostro signore a differenza di noi non fa cose inutili per cui se non vuole che si cominci a vivere con la marita e moglie senza un sacramento segno è che noi abbiamo bisogno di questo sacramento per poter vivere la santificazione di coppie all'interno del matrimonio e questo disprezzarlo con gesto formale quindi non soltanto de facto come avviene in una convivenza ma de jure come avviene in un matrimonio sacramento richiede questa è la disciplina canonica che noi parroci conosciamo bene se una coppia sposata al comune viene a chiedersi di sposarsi in chiesa c'è bisogno di istruire una pratica dove i conugi civili stessi devono dichiarare che sono pentiti spiegare perché hanno fatto quella cosa e spiegare perché vogliono rimettersi in linea con la legge di Dio ci deve essere un'autorizzazione in questo senso esplicita dell'ordinario diocesano cioè del vescovo che deve autorizzare espressamente la celebrazione di queste nozze io vi posso dire insomma essendo parlo in cura d'anime che quando capitano questa situazione le coppie ti guardano con due occhi sgranati così a dire eeeh e tocca fare tutta sta commedia per andare a sposare in chiesa a saperlo non ce ne vediamo proprio perché non si rendono minimamente conto di questo fatto cioè la cosa grave ragazzi e ragazze carissimi che che si constata in questi brutti tempi e in questo brutto mondo non è che ci sono i peccati i peccati nel mondo purtroppo ci sono sempre stati ma che oggi si commette il peccato con estrema leggerezza e senza alcuna coscienza di peccare anzi 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 addirittura in alcuni casi si vorrebbe che al peccato fosse opposta eeeh una una sorta di riconoscimento nel senso che non c'è niente di male va bene non la stiamo a fa troppo grave non stiamo a fare la fine del mondo non stiamo a fare le tragedie greche che sarà mai mica ho ammazzato qualcuno questa è la cosa grave cioè questa è stata un'operazione un gigantesco non lo so lavaggio del cervello che sicuramente ha in qualcuno più grande dell'uomo il regista eeeh il regista lo sceneggiatore eeeh il raccoglitore del casting eccetera eccetera però purtroppo ha avuto come attori noi eeeh noi noi sicuramente alcuni in veste di attori protagonisti che hanno fatto un pochettino da 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 trascinatori insomma del carro verso il basso a cui sono scesi questi anni con tutta tanto una serie di sciocchezze e di circolazioni insomma di di grosse stupitaggini che purtroppo hanno prodotto i frutti che hanno prodotto e adesso diventa davvero difficile tornare in qualche modo indietro quindi spero di aver di essere riuscito eeeh a delineare la fattispecie di gravità eeeh di queste altre due forme di fatto di eeeh oltraggio al sacramento del matrimonio che sono appunto le libere convivenze e l'unione soltanto civile ecco a questo punto però bisogna aprire delle parentesi provocatorie mi dispiace ragazzi voi dovete perdonarmi che ogni tanto eeeh le sparo un po' però mi pare che proprio sul settimanale di padre Pio recentemente o meno recentemente ho letto una frase storica di non mi ricordo chi ma molto significativa che dice così il male si diffonde anche grazie a coloro che non vi si oppongono cioè c'è una sorta oggi di connivenza generalizzata di quasi rassegnazione che coinvolge tutti a tutti i livelli adesso farò degli esempi molto concreti molto concreti e li faccio anche dal pulpito li faccio anche in chiesa e non mi importa se a qualcuno possano sembrare delle cose che chissà che o chissà che cosa per quanto mi riguarda sono assolutamente ovvie allora c'è l'aborto in Italia io non ci posso fare niente come libero cittadino però posso andare per esempio alla marcia per la vita io quando sono partecipato alla marcia per la vita quest'anno e l'anno scorso lo so benissimo che non è che siccome partecipiamo a una marcia per la vita in Parlamento qualcuno abbrocherà la legge 194 lo so ma faccio quello che posso per dire no e per oppormi c'è stato un noto cantautore italiano un rocker dalla vita spericolata che quando ero giovane ammaliato dal fascino delle sue persuasive canzoni cantava io avevo l'età di molti degli ascoltatori che spero che ci siano circa 16-17 anni c'è chi dice no lui lo diceva in un altro ovviamente contesto come contesto di provocazione e di ribellione fenomeno tipico del mondo rock come ricorderete abbiamo visto in altre puntate sempre su questa stessa radio e quindi come forma di trasgressione a valori dominanti alla cultura dominante alla religione eccetera eccetera quindi c'è chi dice no io non ci credo quindi non ci credo a cosa non ci credo a tutte le scemenze secondo questo cantautore che dicono i preti che dice la chiesa a Dio a queste cose io credo credo soltanto a quello che vedo e a quello che tocco però sto facendo dell'ironia per dire qui qualcuno deve dire no adesso ci sono tanti no da dire cioè adesso i veri trasgressivi per questo che i papi tutti Benedetto XVI Francesco Nicola chiunque ci stia stanno sempre a dire ai giovani abbiate il coraggio di andare contro corrente cioè ci stanno incitando la trasgressione cioè i veri trasgressivi oggi siamo noi siamo noi se una signorina oggi va vestita come Dio comanda è la più grande trasgressiva del mondo perché si tira dietro una montagna di fango non vi dico alcune brave figliole che qui dentro in chiesa da queste parti per loro libera spontanea volontà come ho detto anche pubblicamente domenica nessuno le ha mai obbligate usano il velo guarda se avessero che vi posso dire se avessero non lo so camminato a testa in su in sotto e a zampe all'aria dicono a Roma ci sarebbe stato meno 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 risonanza meno boato cioè oggi le cose che un tempo erano assolutamente normali sono diventate chissà che o chissà che cosa a me ogni tanto mi arrivano in giro perdonatemi se i riscontri Don Leonardo grazie per le cose ma io sinceramente ve lo dico con tutto il cuore in mano non mi sento di dire chissà che o chissà che io mi sento di dire delle cose normalissime normalissime questo è è l'abc stiamo facendo dieci comandamenti non stiamo facendo le beatitudini una certa volta scorsa questo è l'abc della vita cristiana cose che i nostri padri i nostri nonni ma non c'era manco bisogno di fargliere le sapevano punta e basta cioè erano dati di fatto acquisiti oggi io vi parlo da prete tu non puoi dare più acquisito nemmeno che uno sa che la mattina quando si sveglia devi passare il signor della croce perché non lo sanno neanche questo da prete puoi dare per scontato allora quali sono le provocazioni allora io vi dico una cosa ragazzi carissimi spero che i vostri genitori non rientrano nelle parole che sto che sto dicendo io ho constato giorno dopo giorno settimana dopo settimana mese dopo mese anno dopo anno esperienza pastorale dopo esperienza pastorale la drammatica la drammatica verità è portata devastante ma proprio devastante e insisto a dire devastante della terribile della terribile una delle più terribili secondo me profezia di padre Pio poco prima di morire che è questa verranno generazioni di genitori incapaci di educare i loro figli non vorrei essere nei panni dei vostri nipoti che c'entra questo discorso allora vi faccio subito un esempio io adesso ho 42 anni avrei potuto tranquillamente avere un figlio di 18 anni di 19 anni di 20 anni forse se mi fossi sposato a 20 22 anni supponiamo che questo figlio di 20 anni viene da me ha 20 anni quindi è maggiorenne io non posso mica impedirgli di disporre della sua vita come meglio crede anche se se l'ho educato bene mi auguro che non faccia scelte che siano all'opposto di ciò che gli ho insegnato però supponiamo che questo figlio è uscito scapestrato e viene a dirmi papà io vado a convivere con la mia fidanzata io e la mia cara mogliettina che cosa facciamo dinanzi a questo cosa facciamo diciamo ma no guarda mi dispiace tanto sarebbe meglio di no tu lo sai che noi crediamo che noi non crediamo in queste cose vabbè però se proprio vuoi fare così se sei contento tu pazienza e quindi questi vanno a convivere io li aiuto magari anche a redarsi la casa li aiuto a comprare i mobili e dopo di che li tratto come se fossero marito e moglie normalmente come se niente fosse quindi vado a pranzo tranquillamente a casa loro loro vengono tranquillamente a pranzo a casa mia come se niente fosse si fa così secondo voi io c'ho qualche dubbio ragazzi perché recentemente sto rileggendo una biografia del santo curato d'Arz il grande santo curato d'Arz che è padrono dei parroci quindi che ci aiuta anche un po' a noi poveri disgraziati che siamo i parroci di oggi che sarebbe molto bene ritirarsi in monastero a vita privata per avere il fegato un po' meno grosso che si sgolava nel dire con parole di fuoco ai genitori che davanti a Dio avrebbero risposto di tutti i peccati dei figli a cui non si erano opposti e lui fa anche degli esempi se un genitore secondo il santo curato d'Arz permette che la figlia attenti vada a vedere un ballo prendete la biografia il santo curato d'Arz del Troshu che è la più attendibile di tutto e leggete queste cose se non mi credete quindi va a va a vedere un ballo i genitori ne risponderanno severamente davanti a Dio quindi io vi lascio la provocazione un padre e una madre cosa devono fare dinanzi a un figlio a fare una cosa di questo genere io un'idea me la sono fatta l'idea è questa qui io quello che tu fai non lo condivido e non lo benedico tu c'hai vent'anni la vita è la tua ma vuoi la casa per la tua convivente te la paghi vuoi i mobili te li paghi io non ci metto un dito non muovo uno spillo non muovo una cosa e per quanto mi riguarda voi siete due fidanzati quindi io dentro quella casa piede non ce lo metto ma non per motivazioni moralistiche che chi lo sa che succede perché sarebbe una sorta di approvazione mia di padre a quello che tu stai facendo che io non la posso fare quindi tu sei libero di scegliere questo ma scegliendo questo vuol dire che tu scegli di modulare i rapporti con me sulla base di questa difficoltà e tensione che tu hai voluto non io perché io mi regolo di sponde di conseguenza perché nonostante che tu sia grande continua a essere tuo padre e io devo insegnarti che ciò che offende Dio non lo sottoscrivo può pure avercene 40 o 50 di anni io quello non lo sottoscrivo casa mia è sempre aperta perché tu sei mio figlio ma gentilmente entri tu non con la tua compagna quando sarete felicemente sposati in chiesa io sarò il primo a farvi il regalo più grande che esiste e a dimenticare tutte queste cose sono le 17 sento suonare la campana della mia parrocchietta facciamo una piccola pausa per recitare insieme l'Ave Maria Ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria una domanda da una scorsa fuori nostro sì tuo padre si è divorziato e poi risposta sì la signora anche lei si è divorzato e divorzato sì come è la situazione l'ho detta la volta scorsa la situazione davanti a Dio è una situazione di peccato grave quindi perché non ci si può se era sposato in chiesa non si può né divorziare né convolare a nuove nozze quindi questa è una situazione oggettivamente da un punto di vista oggettivo gravemente disordinata di questo peccato devono pentirsi entrambi dopodiché se non hanno figli piccoli sono tenuti a interrompere la coabitazione se vogliono rimettersi in grazia di Dio specialmente la parte cattolica se invece hanno figli piccoli che quindi non consentono l'interruzione della coabitazione onde non creare danni ulteriori a quei poveri innocenti che non c'entrano niente come dice il beato Giovanni Paolo II nella familiare sconsorzio l'ho detto la volta scorsa come non ho sentito la puntata della volta precedente devono fare voto di castità quindi devono astenersi dalla vita sessuale dormire in camere separate confessarsi e poi facendo vita casta in questo modo possono comunicarsi in parrocchia in chiese dove non siano conosciuti come coppia onde non creare scandalo tra chi magari vede che si vanno a fare la comunione due persone che sanno essere divorziate e risposate questa è la situazione ok se non ci sono altre domande madre procedo e andiamo avanti un discorso non dissimile altra provocazione va fatta dice no mio figlio non decide di andare a convivere organizza un bel matrimonio al comune cosa facciamo cara mogliettina mia io direi a mio moglie ci dobbiamo andare al matrimonio di nostro figlio al comune dobbiamo andare davanti al 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 sindaco a vedere il nostro figlio che disprezzando il sacramento del matrimonio chiede la benedizione delle sue nozze a un uomo come noi io vorrei tanto che ci fosse la possibilità che tutti gli ascoltatori rispondessero e interloquissero io dico che una cosa di questo genere sarebbe completamente assurda non è che non mi renda conto cioè una coppia di genitori che sia posta in questa situazione deve fare una scelta drammatica grave dolorosa impegnativa lacerante per certi aspetti ma è necessaria è necessaria perché bisogna dare un gesto di dissenso forte cioè le chiacchiere oggi oggi più che mai contano fino a un certo punto è ovvio che ordinariamente le cose vanno comunicate vanno quindi dette con le parole e tra l'altro con parole dolci gentili pacate miti e caritatevoli questo è lo stile ordinario però quando si hanno dei compiti e delle responsabilità educative alle parole alle parole dolci buone pacate e caritatevoli devono necessariamente se le circostanze lo richiedono seguire dei comportamenti conseguenti questo vale per i genitori questo vale per tutti io che sono un sacerdote per quanto mi riguarda il mio desiderio più grande sarebbe quando entri in confessionale venissero tutti quanti penitenti tutti quanti pentiti e che io potessi amministrare la soluzione con gioia e dare l'abbraccio di Dio Padre a tutti sempre diciamo questo così va nel 90 95% dei casi ma quelle rare volte in cui è palese che è impossibile assolvere una persona io non posso assolverla mi dispiace d'accordo mi dispiace tanto so di provocare un dolore in quella persona da un punto di vista umano ma non posso fare altrimenti perché allora la bontà si trasformerebbe in buonismo e la carità sarebbe falsa perché aliena dalla verità ci vuole sempre una grande misura ragazzi e ragazze carissime ci vuole sempre un limite quindi la carità sempre fino a quando non viene posta in causa la verità perché la carità deve essere sempre nella verità e per la verità mai contro la verità come diceva sempre il buon Padre Pio da vedere il Cina il primo servizio della carità è dire la verità con carità quindi che facciamo ecco io ritengo e che la stessa cosa vale attenzione 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 ho parlato ai genitori ecco queste sono scelte gravi però dobbiamo ricordare tutto il Vangelo cosa dice Gesù nel Vangelo chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me Vangelo di Matteo capitolo 10 versetto 37 nel Vangelo di San Luca viene usata un'interpretazione semitica e perbolica chi viene a me non odia suo padre sua madre la moglie i figli i campi e perfino la propria vita non può essere mio discepolo cosa significano queste cose nella nuova traduzione della CEI se non ricordo male a odia è stato sostituito che uno viene a me e ama più di me la moglie il figlio che sarebbe poi la decodificazione corretta grande l'amore verso i figli certo ma più grande l'amore verso Dio e quindi più grande l'amore verso l'anima di tuo figlio perché tu facendo queste cose come dire crei delle tensioni da un punto di vista affettivo emotivo indubbie delle situazioni di sofferenza anche molto grandi ma tu ami l'anima di tuo figlio perché tu stai cooperando con la grazia a che lui riconosca il male di quello che sta facendo e si pente e si converta e questo il signore credo che lo chieda a un genitore chi ama il figlio la figlia più di meno non è degno di me prima dell'amore per il figlio o per la figlia viene l'amore di Dio questo è il Vangelo non lo dice Don Leonardo eh ti ho sempre detto che Don Leonardo è il pappagallo di corte ripete cose imparate da chi è più grande di lui cioè tutti perché essere più grandi di me ci vuole ben poco e veniamo ad essere pastori perché la gente non è mica stupida noi preti a volte siamo così in genere da pensarsi che la gente è stupida la gente capisce benissimo tutto altro che stupida allora tutto c'è due due conviventi che chiedono di sposarsi benissimo rallegriamoci ed esultiamo d'accordo perché c'è una situazione regolarizzata o che si sta per regolarizzare un peccato in meno uno scandalo tolto bene a quale prezzo però cioè tu hai convissuto supponiamo che tu facciamo due casi conviventi con figli e conviventi senza figli supponiamo conviventi senza figli tu vuoi sposarti in chiesa sì ora convivendo tu hai dato ha ingenerato con la tua condotta un pubblico scandalo d'accordo perché la convivenza l'abbiamo vista è un peccato pubblico allora per quanto mi riguarda sarebbe molto opportuno per non dire doveroso che se i figli non ci sono tu prima della convivenza anche come gesto soprattutto nei confronti dei vicini quindi verso i genitori del promesso sposa della promessa sposa verso i parenti gli zii e i cugini si torna ognuno a casa propria ovviamente si torna a casa propria con l'annessa promessa di castità fino alla prima notte di nozze perché io penso che il signore ci chiede dopo che abbiamo sbagliato di fare qualche piccolo gesto di conversione e di penitenza o no cosa facciamo vogliamo mantenere la convivenza fino al giorno stesso del matrimonio e magari la notte prima di nozze festeggiare come si dovrebbe festeggiare la notte stessa di nozze così se non si può confessare il giorno prima perché è capace che poi la notte prima del matrimonio abbiamo fatto un altro peccato mortale così come se niente fosse supponiamo che questa coppia abbia fatto un figlio fortuna che da le nostre parti il vescovo che adesso purtroppo è stato promosso e quindi trasferito ha fatto un decreto perché adesso era in valsa la moda di fare un figlio prima allora facciamo intanto un figlio poi ci sposiamo e così facciamo tutto insieme matrimonio e battesimo allora guardate che belle scenette matrimonio con abito bianco pensate che io io le dico queste cose dopo a un certo punto sull'abito bianco non mi metto a fare le guerre puniche perché dico se vuoi far ridere tutto quanto il mondo fai pure ridere tutto quanto il mondo perché poi il mondo ride perché loro non si rendono conto ma prima fanno tutte quante le facce le faccettine moderne d'accordo che loro a tutto le capiscono queste cose non è la fine del mondo la convivenza eccetera ralleghiamoci e basta poi però quando vedono la convivente con l'abito bianco lo so io cosa dicono anche a me hai visto quella con l'abito bianco non si vergogna per niente la fate canta il Carlo in Francia pure a spodarsi con l'abito bianco l'abito bianco se lo mette chi è degno perché l'abito bianco significa qualcosa guardate che c'è qualcuno che dice questo anche da queste parti che non è proprio qualcuno potrebbe dire ah queste cose da sud Italia a sud Italia anche in maniera un pochino dispeggiativa io sono molto amico di tutte quante le persone del sud Italia d'accordo e non mi piacciono affatto queste cose ma comunque non sono da sud Italia perché sono da centro Italia ecco perché sono successe da queste parti poi l'abito bianco possibilmente scollato scollacciato o meglio ancora con il toppino pensate che bella contraddizione in termini l'abito bianco con il taglio da diciamo così da donna di facili costumi dentro la chiesa poi poi con un bel battesimo facciamo prima il matrimonio poi il battesimo e poi facciamo l'applauso che ci ha voluto Benedetto XVI per ricordare alla gente che la chiesa non è uno stadio cosa che oggi è così difficile capirlo e quindi che gli applausi in chiesa sono proibiti ci ha voluto Benedetto XVI per dire questa ovvia cosa poi gli facciamo l'applauso d'accordo e possibilmente comincia a battere le mani il sacerdote che ha celebrato il matrimonio del battesimo bravi complimenti io adesso sto ironizzando spero che voi ascoltatori mi capiate nessuno vuole mettere all'agonia o peccare senza misericordia verso queste situazioni ho già premesso che molte volte si commettono dei peccati gravissimi senza la minima consapevolezza perché stiamo vivendo in una società corrotta in un mondo depravato però alla doverosa misericordia e bontà ci deve anche essere un minimo di riguardo per la verità cioè facciamo un matrimonio con tutti quanti i grismi con tutti quanti i ridi con tutte le cose però è un matrimonio fatto da persone che per anni hanno calpestato la legge di Dio e questo non può essere completamente ignorato o addirittura andare a prendere in giro il Padre Eterno che non fai il battesimo al figlio il battesimo al figlio lo fai prima del matrimonio che il figlio non bisogna battezzarlo quando ora che piglia moglie hai fatto un figlio dieci giorni dopo lo batteggi e poi ti sposerai e non serve staffa troppe feste ma così faccio una festa unica la fai unica lo stesso mia madre mi ha battezzato a cinque giorni ha fatto la festa del battesimo quando ho compiuto un anno un anno dopo quindi non vedo quale sia l'urgenza di feste di cose di questo di questo e se la coppia ha figli e se la coppia ha figli certamente non è possibile una riparazione pubblica dello scandalo interrompendo la convivenza è lo stesso discorso dei divorziati e dei sposati che stavamo facendo però è possibile la penitenza privata perché comunque due mesi prima tutte le varite e moglie vanno ognuno nella camera propria e fanno due mesi minimo di astinenza ricordiamo tutte quante le catechesi fatte a suo tempo adesso sto scrivendo gli articoli sul timonale di padre Pio sul sacramento della confessione Dio li perdona tutti i peccati ma Dio vuole il pentimento vuole il pentimento e vuole la penitenza tu non puoi peccare fino alla notte prima di nozze e dalla notte dopo di nozze li cominci a fare come prima quando non ci fosse nessun problema almeno un piccolo segno almeno ma sto dicendo il minimo questo qui è per grazia di Dio il nostro vescovo con decreto ha proibito di celebrare il sacramento del battesimo in una con la celebrazione del matrimonio di due persone conviventi o sposate al comune e grazie a Dio non è l'unica diocesi in cui questo provvedimento viene preso la gente capisce benissimo non è che non capisce benissimo perché se vede che scusate una coppia va in giro convive io vado a convivere mio padre dinanzi alla mia della famiglia non succede niente mio padre e mia madre mi trattano come se fossimo una famiglia dinanzi ai parenti non succede niente dinanzi agli amici non succede niente manco dinanzi al prete succede niente perché vado a chiedere di sposare evviva che bello ci facciamo molto insieme al battesimo a Bagari poi c'è l'ultima moda l'ultima moda qualcuno è riuscito a tamponarlo a dirglielo prima del tempo che se c'hanno invece i figli di 4-5 anni si fanno portare le fedi dinuziali dai figli bello no? che bella cosa i figli che portano le fedi dinuziali ai genitori commovente no? strappa lacrime applauso subito dopo no? sta di fatto che nei matrimoni con tutti quanti i grismi e quelli di cui forse si può presumere che ci sia la benedizione di Dio sono stati casti prima del matrimonio e i figli non dovrebbero essere presenti al matrimonio dei genitori perché dovrebbero nascere dopo e almeno 9 mesi dopo il matrimonio non 6 mesi dopo noi non è possibile che in nome di un malinteso concetto di carità ci mettiamo sotto i piedi la verità e il Vangelo questo non è possibile non è stato possibile mai e non sarà possibile mai ecco c'è un proverbio popolare ragazzi che dice così non ricordate chi tace acconsente ecco qui sia non pochi fedeli che forse anche qualche pastore farebbe bene ogni tanto a ricordarseli a ricordare questa cosa ecco quindi abbiamo con questo focalizzato le prime tre gravi forme di peccato impuro che sono anche quelle che colpiscono la santità del matrimonio come sacramento ce n'è un'ultima categoria di comportamenti che sono direttamente offensivi e contrari alla santità del matrimonio che sono i rapporti prematrimoniali altro tema ormai oggi è considerato completamente fuori del mondo ma fuori del mondo non è perché per rapporti prematrimoniali si intendono non soltanto il peccato di fornicazione cioè il compimento dell'atto sessuale in senso stretto dell'atto coniugale e basta qui bisogna fare attenzione perché molti ragazzi anche di mia conoscenza in buona coscienza pensano dice come state vivendo il fidanzamento stiamo vivendo nella castità vuol dire che si astengono dal compiere gli atti coniugali ma non vivono la castità perché trovano delle forme come dire alternative di contatto intimo e di ricerca del piacere sessuale che sono parimenti illeciti sono leggermente meno gravi ovviamente ma sono comunque in quanto peccati contro il sesto comandamento gravi e quindi se commessi con piena avvertenza deliberata consenso peccati mortali allora quindi con rapporti primatrimoniali non si intende soltanto il peccato di fornicazione ma tutti quei contatti a carattere precipuamente sessuale che si intrattengono nel tempo precedente il matrimonio con una gradazione di intensità che ripeto ferma restante la materia grave comune a tutti parte dal cosiddetto bacio profondo qualcuno lo preferisce chiamare colombino arrivando fino al peccato di fornicazione in senso stretto con tutte le tappe intermedie d'accordo qui anche il linguaggio voi mi perdonerete che deve essere sobrio però penso che ci riusciamo a capire fornicazione in senso stretto in cui si intende la vera e propria congiunzione carnale come il resto dice l'enciclopedia treccani al di fuori del matrimonio ora noi oggi viviamo in una cultura che può essere definita ed è stata definita oltre che permissivista letteralmente pansessualista è libertina cioè pansessualista vuol dire che vede il sesso dappertutto e libertina vuol dire che fa del piacere sessuale della libertà sessuale il cavallo di battaglia e il distintivo di una persona che voglia essere felice e realizzata non senza sotto questo punto di vista subire pur a diversi anni di distanza nonostante a livello scientifico siano ampiamente superate alcune formulazioni risentendo del pensiero e della dottrina di un certo Sigmund Freud che riduceva e riconduceva tutte le forme di frustrazione e di conflitto della persona umana a fenomeni di frustrazione sessuale conscia o inconscia siamo perfettamente dentro questa logica quindi alcune indicazioni della morale cattolica ad un osservatore poco formato diciamo così potrebbero sembrare rigide eccessive o anacronistiche ma così non è scusate allora cos'è il fidanzamento nel progetto di Dio il fidanzamento è un tempo in cui si deve operare un duplice discernimento da parte dei fidanzati ed è il seguente il primo è una verifica vocazionale perché il matrimonio è una vocazione ben precisa alcune persone sono sposate avrebbero fatto meglio di rimanersene per conto proprio perché la vita matrimoniale richiede come tutte le vocazioni all'amore un ampio tasso di disponibilità al sacrificio tra l'altro molto costoso perché si sta sempre a fianco alla stessa persona che è una persona inevitabilmente limitata prima dicevo la convivenza è un assurdo pazzesco perché è inutile che fai il matrimonio che fai la prova perché non ti troverai bene con nessuno cioè se tu ti pensi dobbiamo vedere se andiamo d'accordo o non andiamo d'accordo d'accordo non ci si va se non si impara ad amarsi nella dimensione del Vangelo perché le persone sono diverse l'una dall'altra e non esiste di immacolata concezione di Gesù Cristo figlio di Dio incarnato ce n'è un maschio è una femmina e basta tutti il resto sono figli di Adam e di Eva maschi e femmine quindi sono gente che per quanto si sforzi è imperfetta è piena di difetti ci stanno delle volte che la prenderesti la sbatteresti al muro dicono a Roma ecco quindi è inutile che fai la prova perché tanto la convivenza ideale non la troverai mai non è questa la cosa basilare del matrimonio io devo vedere uno se ho una vocazione autentica che cos'è il matrimonio è una forma di amore particolare donazione totale ed esclusiva ad una creatura a cui dedicare la mia vita perché sia felice offrendogliela e con cui se Dio vuole cooperare con lui nel grande compito della procreazione questa è la vocazione del matrimonio secondo quindi allora c'ho questa vocazione del matrimonio è come quando uno entra in seminario cioè il fidanzamento è per gli sposi come il seminario o il noviziato è come il seminario è per un prete come il noviziato e comunque il tempo di formazione fino alla professione solenne è per un religioso ora io certamente che posso sentire una certa inclinazione prima non è che mi vado a fidanzare se penso che voglio fare il prete sarei un pazzo sarei se penso che voglio fare il prete entra in seminario se io sento mi sento inclinato verso questo cercherò una persona che mi stia a fianco benissimo una volta che l'ho trovata dal di dentro adesso a prescindere dal secondo punto verificherò se questa è la mia strada oppure no uno e ce ne ho per fare comunque comincia ad avere una frequentazione una conoscenza uno stare molto tempo insieme anche se non dalla 24 su 24 sono sotto lo stesso tetto che mi permette anche di conoscere un universo femminile come mi trovo come mi sento se questo mi sembra di essere ciò per cui sono disposto a spendere la vita eccetera questo lo posso mica dare perché un conto sono i sogni che noi facciamo un conto è la realtà concreta in cui ci troviamo a vivere quindi primo punto secondo punto mettiamo a rianda alla fine io devo vedere se la persona concreta con cui sto aprendo questo discorso è quella che Dio mi ha messo davanti cioè è la persona con cui Dio vuole che io formi una famiglia a prescindere dal fatto che sicuramente mi sta simpatica provo un certo interesse la stimo e sento cosa assolutamente normale male e in se stessa come dire perfettamente benedicibile diciamo così da Dio sono innamorato non c'è nessuna niente di male nell'essere innamorati un problema se una persona che è sposata si innamora di una persona che non è sua moglie ma questo è un altro discorso d'accordo ora quindi ci sono queste due questi due punti da definire quindi per definizione il fidanzamento è caratterizzato da due elementi uno dalla precarietà perché è certamente un certo impegno che uno si prende ma un impegno non vincolante non ci sono promesse fatte a nessuno anche se una persona in coscienza deve fare la persona seria cioè se inizia una relazione non deve farlo così perché non c'è niente da fare e secondo non c'è nessuna forma di appartenenza reciproca cioè la mia fidanzata io la chiamo la mia fidanzata ma non è mia non mi appartiene proprio per questa come dire precarietà intrinseca che è propria del fidanzamento salvo quando in procinto di matrimonio diventa come dire fidanzamento ufficiale con le fedine non so chi lo fa ancora allora quello abbiamo deciso la mano del matrimonio allora possiamo come dire cominciare a entrare in un'ottica differente prima non c'è proprio e anche dopo il fidanzamento ufficiale non c'è comunque un'appartenenza totale anche se c'è una certa appartenenza reciproca perché cominciano ad essere a prendersi degli impegni a breve termine allora per questo motivo ci sono due indicazioni date non da me ma dai maestri di spirito primo ordinariamente evitare fidanzamenti precoci io suggerisco personalmente questa è un'idea mia è d'accordo un'idea mia sulla scorta di questi insegnamenti quindi se non volete seguire non seguite però è una misura prudenziale di non aprire storie impegnative prima dei 18 anni che oggi sono pochi perché oggi si sposa a 30 anni non è più come una volta e secondo evitare non sono fidanzamenti precoci ma fidanzamenti eccessivamente lunghi perché un fidanzamento eccessivamente lungo può porre in serio pericolo la possibilità di perseverare fino alla fine nella castità esigente che come vedremo la prossima volta a questo punto è richiesta durante questo periodo quindi questi sono due consigli fondamentali è necessario quindi il raggiungimento di un'età matura in cui si è già fatto un primo screening d'accordo circa la prospettiva vocazionale quindi lo stato di vita da scegliere e inoltre prima di impegnarsi con una persona come dire ad aprire una storia a dire noi stiamo insieme prendersi un periodo in cui si ha semplicemente un'amicizia un po' più particolare ma senza impegno perché anche gli impegni lievi che poi vanno a finire male possono lasciare delle conseguenze non proprio positive nei cuori delle persone e quindi se si possono evitare è meglio quindi prima di aprire una relazione ordinariamente è sempre meglio farla precedere da un tempo di frequentazione un po' più intima ma senza impegno siamo amici poi ci sono rose fioriranno io mi fermo che credo che siamo arrivati al termine dello spazio consentito continuiamo la settimana prossima vi mando a tutti la mia benedizione una santa settimana ave maria grazie a tutti